8.06, questo era il Cristal History di oggi, mercoledì, mercoledì 3 aprile, Cristal History delle 8, lo sapete, ogni punto ora così lo chiamiamo noi radiofonici, arriva la canzone, la canzone è quella che sicuramente vi scalda il cuore, che sicuramente dite ecco un po' che non la sentivo, è quello il Cristal History e siamo qui per voi. E anche però dopo le 8, lo sapete, arrivano gli ospiti qui a Good Morning Milano e oggi diamo il benvenuto a Nadia Nespoli, buongiorno Nadia. Ciao e buongiorno a tutti, grazie, grazie dell'invito. Ma grazie a te di essere qui, grazie mille perché oggi parliamo di, oggi andiamo in galera, come si chiamava, c'era anche il ristorante? C'è, c'è, c'è ancora in galera. Ecco infatti, non andiamo a mangiare al ristorante, questo oggi no, ma andiamo al cacere di bollate, perché? Perché Nadia con Artemisia, con il suo laboratorio, porta dal 2012 degli importanti e interessanti laboratori all'interno del cacere di bollate. Giusto? Sì, dunque, io ho iniziato in carcere questa mia avventura che parla di arte, di arti visive, perché disegniamo, disegniamo, facciamo storia dell'arte e poi è chiaro che io mi adeguo alle persone che si iscrivono. È iniziata nel 2012, perché nel 2011 l'Accademia di Brera ha iniziato una collaborazione in area trattamentale. Io sono entrata, grazie all'Accademia, nel 2012, subito in un reparto, per cui diciamo che al laboratorio Artemisia, che all'inizio non si chiamava Artemisia, ma era una stanzetta, poi se volete vi posso anche raccontare come abbiamo iniziato, abbiamo cominciato a fare di pittura con tutte le difficoltà che ci sono state all'inizio. Infatti, tu sei stata in contatto con il cacere appunto grazie all'Accademia di Brera, però non credo che tu sia stata l'unica a entrare in contatto con il cacere, con quei progetti dell'Accademia, però hai deciso di rimanerci. È questo, sì. Quando in realtà chiunque vorrebbe uscire da lì, tu ci vuoi entrare, cioè, questo è interessante, no? Diciamo che poi quando inizi lo fai con passione, ma la passione riguarda certamente l'arte e quello che stai facendo, effettivamente sotto l'aspetto umano, loro ti danno moltissimo, perché sono una fonte inesauribile di ispirazione anche per il mio lavoro. Guarda, in un'ultima intervista riguardo una mia personale che ho terminato nei primi mesi del 24, mi è stato chiesto, ma perché continui, no? Cosa ti danno? Stessa domanda a cui siamo arrivati in questo momento, mi danno moltissimo sotto l'aspetto umano. E anche perché, insomma, verrebbe da pensare, cioè, di progetti in caraccia ne abbiamo sentiti sempre tanti, no? E la falegnameria, e fare le borse, sempre comunque cose che poi realizzano oggetti, o comunque, insomma, far andare di mano. E qui invece tu gli porti proprio la storia dell'arte, fai fatica a farlo e digerire da me. Non so, perché c'è nel senso a chiunque. No, guarda, facciamo anche noi lavori di mano. C'è la coda, giusto? C'è la coda per venire ai tuoi lavoratori. No, sono arrivata anche a avere 30 iscritti, sì, e capisci bene che... E fissaltare tutti i pregiudizi e preconcetti che si possono avere su chi sta in carcere, cioè questa è la cosa bella anche di quello che fai. Bisogna dar loro comunque una seconda opportunità. E se non credessi a questa cosa, non entrerei tutte le settimane, credi, mi sono mancata davvero molto poco. Io di solito entro ogni martedì mattina, per cui ieri, e per loro non è l'arte, non è la pittura che li attira, ma avere un contatto con l'esterno. È un filo diretto con fuori, e sono io che porto questo filo diretto. Poi negli anni, per esempio ora, ho tra gli scritti un uomo, ecco perché io sono al maschine, ho un uomo che fuori faceva l'artista. Per cui capisci bene che parlare con lui è sempre, per me è sempre divertente anche, perché insomma ci si confronta su moltissimi argomenti. C'è una connessione che appunto già esisteva prima, lui appunto faceva l'artista fuori, e quindi riesce comunque a portare avanti anche la sua passione, che appunto per fortuna, e come dici giustamente tu, a chiunque poi bisogna dare una seconda possibilità, questo è importante. Andiamo avanti allora adesso con un po' di musica, ma poi torniamo qui in Italia, perché appunto ieri eri lì, mi dicevi, no? E allora adesso poi quando rientriamo voglio capire, ieri cosa avete fatto? Mi raccomando un po' cosa avete fatto ieri, ok? E allora andiamo con Lady Gaga, con Hold My End, dalla colonna sonora di Top Gun Maverick, e poi torniamo qui con Nadia Nespoli a parlare di Artemisia Laboratorio. Il martedì mi diceva ogni tanto, no? Di solito il martedì è il giorno dopo. No, no, di solito è il martedì, se no che ho altri impegni. Ieri era martedì. Sì. E quindi ieri cosa avete detto? Cioè tu sei arrivata, buongiorno, ciao, sono Nadia, cosa facciamo oggi? Allora, ti dico proprio tutta la verità, io sono arrivata molto molto presto ieri, per cui intorno alle 9.10, 9, perché bisogna firmare l'orario, e dunque 9.11 erano, e sono, ho aperto io il laboratorio, sono entrata, ho fatto dire agli agenti gruppo Artemisia, perché li chiamano e scendono, e poi sono entrata in laboratorio, dico ma non arriva nessuno stamattina, come mai, come mai, come non mai, poi hanno cominciato a scendere un paio di persone, e dico ma tutti gli altri dove sono? C'è la partita. Che cosa c'è la partita? Sì, ieri mattina c'era una partita di calcio tra di loro, e dunque mi mancavano un po' di ragazzi. Erano i giocatori migliori. Sì, no, ma poi mi hanno anche riferito che abbiamo vinto. Abbiamo, perché nella maggioranza, insomma, c'erano molti iscritti al laboratorio, per cui questo è... Quindi il prossimo passo è Artemisia Football Club. No, spero di no, anche perché proprio non me ne intendo. Allora, cosa abbiamo fatto? Io intanto, mentre aspettavo che arrivasse qualcuno, mi sono messa io a usare dei gessetti per fare un paesaggio, perché volevo far vedere bene come usare questa tecnica a uno dei ragazzi, perché poi lui invece era alla partita, comunque si è presentato più tardi, ma intanto... Poi si è presentato? Cioè dopo la partita è venuto... Assolutamente, si, sanno che arrivo, per cui... E mi sono messa a fare questo lavoro, per cui il tempo è passato, ma tornando alle cose più serie, poi abbiamo parlato di due appuntamenti che abbiamo nel mese di aprile. Allora, premettendo che io cerco di portare fuori i loro lavori, perché è importante che loro possano essere riconosciuti e ci sia una riconoscenza nei confronti del loro lavoro pittorico. Dunque, abbiamo tre appuntamenti che sono uno, un concorso di scultura che c'è a Cesano Maderno. Noi abbiamo con un'iscrizione la possibilità di portare tre lavori e saranno tutti e tre a nome di Artemisia. Il messaggio che sempre in questi anni voglio che passi è lavoriamo insieme, usciamo come laboratorio, non come singolo. Non è facile, credimi. Una factory, una factory. No, no, ma non è facile perché comunque hanno anche bisogno di avere una riconoscenza personale. Però, insomma, io voglio che passi il gruppo, per cui abbiamo questo concorso di pittura, a cui porterò i lavori l'11 di aprile. E poi abbiamo una bellissima mostra, una collettiva, per cui questi ragazzi entreranno a far parte di un gruppo di artisti e esporranno a Milano e dunque l'inaugurazione è il 20 aprile. Devo dire tutto a mente. Dopo vi do gli indirizzi, se volete anche magari qualche espettatore o telespettatore raggiungerci. E questo progetto pittorico si intitola Il mio castello, che è una cosa davvero grande. È molto importante questa cosa del fatto che non è che si rimane poi chiusi nel laboratorio Artemisia all'interno del carcere. Non avrebbe niente senso. Invece tu giustamente dici no, bisogna portarli fuori. È interessante questa cosa del portare fuori però come fosse un unico gruppo. Cioè come è un unico gruppo. Sì, sì, sì. Allora, spesso accade che comunque serve che un lavoro... Allora, c'è sempre il nostro timbro laboratorio Artemisia dietro alle tele, dietro al lavoro, dietro alla scultura. Insomma, c'è sempre una destinazione. Ma spesso può accadere che ci vuole anche il nome dell'autore. Non sempre è così. Ma è il laboratorio assolutamente che deve uscire, insomma. È il lavoro di tutti. Eh, infatti, questa cosa è molto importante. È molto anche interessante dal punto di vista che magari tante singolarità invece si mettono insieme a creare un unico grande lavoro. Ma è il problema più grande. Ecco, ricordaci bene le date proprio appunto dei prossimi appuntamenti perché è importante anche questo perché insomma sono tanti gli appuntamenti e sono tanti i momenti in cui possiamo incontrarvi. Sono tanti perché... È fatto bene. Dunque, sabato 13 aprile alle 17.30 c'è la premiazione e l'inaugurazione di questa mostra premio di scultura e arti plastiche a Cesano Maderno, all'auditorio Paolo e Davide Disarò, che è in centro. Poi, finita questa e anche qui abbiamo presentato tre opere. Questa è l'undici, dicevi giusto? Tredici. Tredici, scusa, tredici. Tredici aprile. Io l'undici porto... Ah, giusto, l'undici ti porto, giustamente. C'è l'allestimento, l'allestimento. C'è l'allestimento. Poi la mostra invece che sarà... Il mio castello. Il mio castello. E sarà inaugurata il 20 di aprile e sarà esposta al pubblico il weekend del 20 e il weekend del 28 e poi il suo appuntamento. Ok. Comunque è un luogo ed è in via Savona a Milano, 94. Ok, in che giorno hai detto? 20. Ah, beh, in pieno Salone del Mobile. Poi te li lascio. In pieno fuori Salone. In pieno fuori Salone. Capisci bene. Ragazzi, stai parlando di cose mica crotiche, come si diceva la nostra carta. Il mio castello ha dato modo. Poi ti racconterò anche un'altra cosa molto bella a riguardo. Il mio castello ha dato modo a questi... Sono uomini, io li chiamo ragazzi. A questi ragazzi di tirar fuori il mondo perché capisci bene che il mio castello è qualcosa che rimanda anche a qualcosa all'interiorità, alla tua mente, a quello che hai lasciato a casa, a quello che ti sei creato all'interno del carcere. Per cui è stata davvero una galoppata. Vabbè sì, insomma, le alte burra del castello possono essere sia protezione che invece isolamento. Possono essere tante tante cose e immagino come siano venuto a fare tutte queste cose nelle bellissime opere appunto del laboratorio Artemisia. Andiamo avanti con un po' di musica. Parliamo di libertà a volte, sì, no. Insomma, anche quella roba lì è una cosa molto particolare, soggettiva. Insomma, deve essere un tema anche complicato da parlare con loro, a volte di libertà. Non deve essere facile. Sono sempre argomenti molto difficili, libertà, i reati. Eh, sono cose che insomma... Ti assicuro che capita chiaramente che qualcuno portasse il discorso lì, ma noi parliamo d'altro. Parlate d'altro, ma soprattutto fate tanto, tanto altro. E l'abbiamo visto appunto nei laboratori di Artemisia che poi abbiamo sentito anche di vari appuntamenti in cui potete trovarli. Torniamo a fa pochissimo, eh? Un paio di canzoni e poi siamo ancora qui con voi. Zucchero con Freedom. Zucchero che vi ricordo arriva a Milano quest'estate. È qua. Già tutto sold out. Volevo andarci, non ho trovato neanche un biglietto. Vabbè. Comunque, Nadia Nespoli, Artemisia, laboratorio d'arte all'interno del carcere di Bollate. Ci raccontavi un po' quello che sono le loro storie e so che volevi raccontarci tante altre cose. Quindi raccontaci un po' appunto che cosa significa anche appunto continuare questo percorso che insomma sono più di dieci anni ormai che davanti. Ah sì, sono dodici anni. Cosa significa bene o male? Insomma, te l'ho riassunto. È tutta una parte umana e, sembrerà strano, è sincera che ti arriva da queste persone mentre mettono tutta questa voglia di cambiare, di uscire, di fare un percorso, la mettono in pittura, nel disegno, nella scultura. Insomma, facciamo davvero di tutto. E diventa proprio un modo per comunicare quello che effettivamente loro stanno in questi momenti facendo, in questi anni. Ti ricordo anche, perché non so se ne avevamo parlato, che nella maggior parte dei casi, e non chiaramente la persona di cui ti parlavo prima che faceva l'artista, ma nella maggior parte dei casi, questi uomini escono e non fanno più nulla di pittura. Sì, pochi continuano. Mi arrivano anche messaggi del tipo, mi mancate moltissimo. Sì, io con voi, perché? Perché è il gruppo che funziona, è l'energia che passa tra le persone, insomma, in qualsiasi modo che le senta o le metta. Sì, sì, sì. È quell'energia che appunto passa da una persona all'altra, che crea un po' quell'energia, poi che sta sopra quasi. C'è quasi un'energia superiore che poi dopo a un certo punto unisce questo gruppo e chissà cos'è, chissà cosa lo sarà. E poi grazie a Dio escono. Per cui c'è chi fa un anno, due anni, chi ne fa di più, chi ha fine pena mai. Insomma, c'è proprio questo saltellare da un tempo corto, un tempo più lungo, ma credimi l'impegno è davvero grande per tutti. Dacci un po' di coordinate anche per magari seguire quello che fate, capire, avete dei canali, come funziona? Allora, potete tranquillamente seguirmi sul mio Instagram, Nadia Nespoli, e comunque ne parlano, c'è anche un ufficio stampa in carcere, a Pollate, per cui tutte le cose, quelle un pochino importanti, si conoscono anche per mezzo dei giornali, insomma, delle interviste come questa. Ma grazie, Nadia. Del carcere si parla troppo poco, no? È uno di quei luoghi che si cerca di non raccontare mai, si cerca di non pensarci neanche, tanto non succederà mai a me, no? Ultimamente se ne parla. Ecco, si parla di, solo di queste iniziative che non sono il carcere, è la parte più bella del carcere. Ci sono dei grossi problemi che invece, comunque, andrebbero affrontati. E' vero, è vero che si, insomma, si tende a dimenticare, è sempre qualcosa che, a parte San Vittore che è in centro, e te lo ritrovi, comunque, sono quasi sempre... Una rarità, una rarità. Una rarità, infatti. Poi sarà anche monumento, secondo me, prima o poi. Ma, sono in periferia, per cui, sono delle costruzioni di cui non sappiamo nemmeno l'esistenza. Parlarne fa sempre bene. Non è solo questo, ecco, non è solo il ristorante, non è solo, anzi, tanto di cappello, non è solo il laboratorio Artemisia, non è solo... Però, insomma, pensi che il carcere sia quello, no? C'è un sacco di sofferenza, c'è il tempo che non passa mai, ci sono tantissime, tantissime persone, sono pigiati, non riescono a... E che bollate, dicono tutti, insomma, è un carcere, sia un'eccellenza, sì. Sicuramente. È un quattro stelle. Ti auguro di non trovare mai, ecco. No, no, vabbè. No, sì, giusto. Nadia, senti, io ti ringrazio tantissimo, allora, per questo tuo progetto. Allora, io ringrazio voi, perché mi avete dato questo spazio, e, vabbè, poi lascerò tutti i miei dati qui, se volete mettervi in contatto, anche per donare materiale, per, ecco, non abbiamo affrontato questo argomento, che effettivamente è molto importante, perché per fare dei buoni, dei capolavori, serve anche del materiale, come si deve. Eh, sì, però che sia un materiale artistico, e quello costa tantissimo. E quindi, allora, adesso, poi dopo, ci lascerai tutti i tuoi contatti, li metteremo anche sul nostro sito goodmorning.milano.it, nell'articolo, appunto, chiedo poi a Elisa, la noma producer, di ricordarsi di inserire tutti i contatti di Nadia, così che, appunto, se qualcuno vuole anche dare una mano da quel punto di vista, insomma, benvenga, così che... questi capolavori rimangano tali, anzi, ne vengano sempre di più, insomma, perché, insomma, di fare capolavori si può fare, bisogna farlo però con i giusti mezzi, quindi... No, bisogna usare materiale buono. Eh, infatti. Se no... Non chiedereste mai uno chef di farvi un buon piatto con gli ingrati scadenti, e quindi, anche l'artista, anche l'artista, ovviamente, deve essere così. Grazie davvero Nadia. Grazie a voi. Grazie, grazie. Salutaci il gruppo Temisia, tutto il gruppo unito, che adesso martedì prossimo opereranno ancora, faranno cose. Eh sì, dobbiamo... Martedì prossimo c'è il ritiro della scultura, per cui dobbiamo impacchettare. Mi raccomando, quindi bisogna lavorare, dai, 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 così poi potremo vedere, appunto, le vostre opere esposte nelle varie location, appunto, quello che ci ha raccontato, anche fuori salone, quindi pensate quanto è importante. Grazie mille Nadia, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Andiamo avanti con la musica, loro sono i pinguini tattici nucleari, alle 8.33, qui su Crystal Radio. Good morning, Milano. E noi torniamo fra poco, è sempre qua, in diretta. Grazie mille.